un po' un gucci comunque va bene, riparà al giorno che dirà non c'entrano più in casa ahahah ancora un po' un po' un po' che bello un po' più basso eh così un po' mettiamoci un po' guarda, guarda un po' che bello girati un po' di così buona, cos'è? tiro fuori? la roba? buona, anche spettacolo questa che è una sciamà vera vera sciamà i piatti per piacere non c'è perché non metti c'è il canello che lo porta vicino al col va bene andiamo a prendere mauri io accendo un po' si ma buona buona ma guarda che artista eh questo è il tuo amore buona ma che bel colore che ha che coda che c'è qua c'è folla eh tutti i piatti di caspezza piatto piange 40% un numero sì, io sono l'uno Ale devo andarcela Ale questo film bella Marta cosa c'è? bella sì, mi ha po' porca miseria guarda che spettacolo eh ma non l'ho fatta Ale è vicino vuoi un vecchio di carinata? non la prendo eh a chi? a Ale ma si sta andando a mettere il po' al posto avanti il prossimo questa è quella di cipolle eh eh non dimentica ma non dimentica no no ma guarda non sai che sei biancato il po' la vita per quelli lì per quelli lì a finita se mi cazzo mi sono rincazzata cosa pensate l'altra sera a metà notte andiamo io arrivo ecco ecco bene va che artista uno due tre allora io quattro e qui c'è il peccato bello pulito vediamo una volta all'anno quindi chiudo la porta e poi ne ho detto e poi vabbè troppo la mia luce chiudiamo vediamo vediamo spiaglio subito la luce immediatamente mettiamo i pelli a posto gli attrezzi Tutto bello libero al fuoco, perché va avanti. Alla salute di chi mi vuole bene. Parlo anche a me di chi, eh. Com'è, Mauri? C'è la cipolla? Mami, volevo mettere il piatto. C'è la cipolla? Ma non ho più detto di no, quindi non ho più. Allora, cosa hai da fare la cipolla? Che buona. C'è la cipolla? 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 Fate un'altra. C'è la cipolla lì. Non è questa, Mauri?